Buongiorno da RTL 102.5. Sono le 7 del mattino e purtroppo è già lunedì, ma abbiamo un'altra cattiva notizia da darvi. Il traffico sulla circonvallazione è completamente bloccato e temo che vi aspetterà una mattinata davvero impegnativa. Perciò il prossimo brano che ascolteremo è dedicato a tutti gli automobilisti che oggi sono rimasti imbottigliati nel traffico. Se conosci la strada, provane una nuova. Nuova Leone Experience for Drive a 23.750 euro. Seat, tecnologia per divertire. Grazie.